Il tema è un altro. Il mercato immobiliare italiano è crollato. Il mercato si nutre di considerazioni micro e macroeconomiche, ma anche psicologiche. La gente povera, a quale siamo sicuramente io e la collega, perché anche se il Corriere della Sera ci descrive come la casta, io e la collega apparteniamo agli italiani meno abbienti. Ma di sicuro la collega. E la collega mi scrive anche a me. Io scusi, andrei piano però con queste affermazioni. No, non voglio dire che stiamo messi peggio. No, Rotondi, per piacere. Lei non può definirsi non abbiente. Lei ha uno stipendio da parlamentare. Non siamo, no. Rispetto alla maggior parte delle persone non può dire. Se mi concede un break, le spiego come lo uso e vedrà che non sono certo una persona abbiente. Sì, lei lo può usare come vuole, però intanto lei ce l'ha. C'è chi comunque ha 800 euro al mese. E nemmeno. Siamo sociologicamente, cito medio.